Now you have to let me talk. I'm... Hello? Hello? Cioè, mi ha riattaccato in faccia. Mi ha riattaccato in faccia. How dare you! So, come dire riattaccare in faccia a qualcuno? Si dice, to hang up on somebody. Di fatti? Hello? To pick up. Ok, alright, bye. To hang up. Quindi se volessi dire, mi ha riattaccato in faccia. She hung up on me. So, she hung up on me. Mi ha riattaccato in faccia. Hung up. Da non confondere con to be hung up on somebody. Perché to be hung up on somebody significa essere presi da qualcuno, avere una cotta per qualcuno, essere innamorati di qualcuno. Quindi, I'm hung up on you. Sono innamorato di te. Every little thing that you say or do I'm hang up I'm hanging up on you